Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video questa è la terza volta che io registro questo video ebbene sì, allora io sto registrando col telefono nuovo spero, incrociamo le dita, che stavolta venga bene perché la prima volta l'ho registrato e ho avuto difficoltà a trasferire il video dal telefono al pc non so che cosa sia successo il computer non mi leggeva il formato di questi video insomma un pomeriggio con Manu a smanettare finché ci siamo riusciti quando l'ho passato sul computer il video era stato registrato con un fruscio di sottofondo assurdo come una raffica di vento che non sono riuscita anche editandolo assolutamente a eliminare quindi l'ho dovuto rifare rifaccio questo video dopo 10 minuti mi accorgo che non avevo schiacciato il rack quindi non ho registrato un tubo per cui incrociamo le dita che questa sia la volta buona perché altrimenti per oggi basta perché non ne posso più comunque a parte gli scherzi allora il video di oggi è un video dedicato mi è venuta questa idea perché in questi giorni, in queste settimane ho utilizzato spesso delle combo delle accoppiate per me vincenti e quindi ve ne volevo parlare quindi combinazioni di prodotti al fine di ottenere qualcosa di gradevole da vedere qualcosa di gradevole anche da sentire perché vi parlerò anche di creme corpo e profumi quindi partiamo subito con i prodotti per capelli per quanto riguarda i prodotti per capelli la mia accoppiata vincente la mia combo perfetta in questo periodo sono questi due prodotti splendor dei quali io vi avevo già abbondantemente parlato in un precedente video la linea è olio splendente una combinazione super low cost perché come vi ho anticipato nel titolo parliamo di combo molto molto low cost qui stiamo per ogni prodotto veramente al di sotto forse dei 3 euro dei 4 euro ecco allora olio splendente questo è lo shampoo vi avevo fatto vedere anche il balsamo ma in questo momento sto preferendo di gran lunga la maschera sono dei prodotti che hanno al loro interno olio di macadamia e olio di mandorla che conferiscono al capello morbidezza e luminosità lo shampoo mi piace perché lava benissimo lascia il cuoio capelluto bello pulito lava i capelli perfettamente li sgrassa e li rende belli profumati mentre la maschera che ha la classica consistenza di una maschera è una maschera che va utilizzata dopo lo shampoo quindi come utilizzo ha solo quello può essere utilizzata appunto dopo lo shampoo la applico sui capelli la tengo su un paio di minuti che sono sufficienti devo dire 3 minuti all'incirca ma si può tenere anche di più se vogliamo mettiamo su una cuffiettina in plastica e la teniamo su anche di più io ancora non l'ho provata così ma la applico come un comune balsamo e il risultato è bellissimo perché i capelli sono subito addolciti nel senso che è molto morbidi e facili da pettinare e da districare e la profumazione di questi prodotti è veramente paradisiaca e dura veramente tantissime tantissime ore la prossima combo riguarda la skin care io ho fatto una scoperta una riscoperta perché in realtà questi prodotti li avevo già utilizzati e ovviamente io sto come dire cercando di sfruttare al meglio questo lungo periodo in casa anche per riscoprire dei prodotti portare a termine tantissimi prodotti e trovare appunto delle combinazioni ideali con i prodotti che ho in casa visto che comunque non sto acquistando assolutamente niente ormai da più di un mese allora sto parlando di questa linea Nivea di prodotti per la skin care sono due creme una crema da giorno con fattore di protezione 20 e una crema rigenerante da notte vi faccio vedere subito la consistenza che è uguale per entrambe quindi vi faccio vedere questa da giorno non sono altro che due creme in gel ad effetto detossinante con olio essenziali di tè verde che va appunto a detossinare la pelle del viso e mi piace tantissimo la texture perché è una texture in gel quindi che rimane molto fresca sul viso si asciuga immediatamente ma conferisce alla mia pelle un aspetto veramente molto disteso e molto luminoso inoltre mi piace anche il fatto che abbia un fattore di protezione ovviamente non è altissimo perché un fattore di protezione per me 20 è basso comunque insomma fa comunque fa un po' di barriera un po' di schermo ovviamente adesso non non usciamo quindi non abbiamo bisogno di questa grande protezione a meno che non ci mettiamo stesi al sole quindi per il momento questa è più che sufficiente io la metto tutte le mattine magari mi proteggo anche quei 10 minuti che sto fuori a stendere al sole è un prodotto che mi piace molto perché può essere tranquillamente utilizzato parlo di quella da giorno come base per il viso perché non altera assolutamente la resa del make up anzi tutt'altro non fa lucidare il viso durante l'arco della giornata e conferisce alla mia pelle che è una pelle super super secca la giusta idratazione quindi mi piace veramente moltissimo questo prodotto lo sto utilizzando con estremo piacere stessa cosa dicasi per quella da notte che restituisce alla mia pelle del viso quel vigore quella tonicità perché la mattina successiva dopo averla applicata la notte vedo la pelle un po' più rigenerata e luminosa soprattutto ho notato un effetto molto luminoso sulla mia pelle del viso non mi hanno dato alcun fastidio voi sapete che è una pelle oltre che secca anche molto molto reattiva e sensibile e trovo che sia un prodotto perfetto per le pelli da normali a molto secche perché ha un effetto piuttosto corposo piuttosto denso quindi temo che per le pelli grasse sia un pochino eccessiva per quanto riguarda il make up ho ben tre combo da farvi vedere allora la prima riguarda la base per il viso tanti anni che mi trucco tanti anni che acquisto prodotti make up ho acquistato nel tempo veramente tantissimi tantissimi prodotti per la base del viso e tantissimi fondotinta quindi provato tantissimi sono arrivata alla conclusione che la mia base ideale la mia combo perfetta è formata da questi due prodotti allora il primo è il fondotinta di Kiko il fondotinta con fattore di protezione 25 insta monster che io ho nella colorazione 4.5c ed è un prodotto con sottotono caldo con sottotono insomma dorato giallo per intenderci e questi fondotinta di questi fondotinta c'è una gamma colori molto vasta suddivisa in sottotoni rosati sottotoni gialli e sottotono neutro quindi ce n'è per tutti i gusti allora questo fondotinta è un fondotinta che va ad uniformare totalmente la pelle del viso e l'incarnato io la base di oggi l'ho realizzata con questo fondo è un fondo dalla texture molto fluida e molto leggera che si può stendere con facilità sia con i polpastreti quindi con le dita che con una spugnetta sia usciutta che umida che con un pennello mi piace moltissimo anche l'applicazione con un pennello purché sia con delle setole molto fitte altrimenti ho notato che lascia un po' di striature è un fondo che può essere stratificato perché non va a fare l'effetto mascherone è un fondo perfetto per chi come me ha una pelle secca e sensibile perché ha un effetto molto idratante si stende veramente che è una meraviglia ed è un fondo secondo me perfetto per tutti i tipi di pelle garantisce un'ottima durata sulla pelle è un fondotinta che io posso consigliare anche a chi deve affrontare una giornata in cui il trucco deve durare tutta la giornata anche per un trucco per un evento molto importante perché è veramente un prodotto che garantisce un'ottima ottima durata e la mia combo perfetta per questo fondotinta è la cipria la powder compact di wet and wild della linea photofocus cipria di cui io vi ho già parlato che ho nella colorazione golden tan questa cipria pressata molto 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 sottile super leggera impalpabile che va a fissare il make up ma soprattutto a conferire all'avviso un aspetto molto radioso molto luminoso ma non lucido ovviamente e andrà a fissare il make up perfettamente per tutto il giorno le prossime due combo riguardano due prodotti labbra allora la prima combo che vi mostro che è poi quella che ho su oggi è data da questi due prodotti allora abbiamo un rouge velvet dei lipstick di bourgeois e questo è il numero 19 che sono questi rossetti in stick molto molto cremosi super pigmentati che una volta applicati sulle labbra si vanno a fissare e diventano super super vellutati super matt ma leggerissimi quasi impercettibili molto molto confortevoli e ve lo vado subito a swatchare si presenta così ha un applicatore che favorisce veramente tantissimo la stesura del rossetto e ha questo colore che è semplicemente meraviglioso proprio un colore splendido è un malva un malva piuttosto chiaro ma poco poco tendente al grigio ed è per questo che mi piace molto e la combo perfetta secondo me è con la everlasting color precision lip liner di Kiko nella colorazione 405 e sono queste matite automatiche sta quasi per finire questa e vi faccio uno svuccino proprio qui accanto al rossetto allora la matita è leggermente più chiara però poi quando noi vedete l'andiamo a fondere con il rossetto diventano un tutt'uno e il connubio è certamente perfetto queste matite poi di Kiko sono indelebili non si tolgono veramente sono perfette soprattutto se il rossetto deve durare a lungo perché la applichiamo sul bordo ne stendiamo un po' anche proprio all'interno delle labbra e poi ci passiamo sopra il rossetto l'effetto è veramente super super confortevole super pigmentato ma anche molto duraturo la seconda combo invece è sempre con una matita di Kiko in questo caso non di quelle automatiche ma quelle temperabili ed è la creamy color comfort lip liner nella colorazione 316 che è anch'essa un color malva ma leggermente più rosso che io vado ad abbinare a questo rossetto di Astra Astra lipstick sono la linea finish velvet matte extra comfort rossetto idratante e levigante sono questi rossetti qui nella colorazione numero 08 hypnotic mauve vediamo se mette a fuoco non lo so spero di sì penso di sì adesso ve lo faccio vedere che è sì un color malva ma leggermente più scuro rispetto a quello di bourgeois questi rossetti sono meravigliosi perché hanno un'ottima ottima pigmentazione ottima durata sono molto leggeri e confortevoli vedete questo è un po' più scuro e meno rosato e ripeto hanno anche un'ottima durata ma mi piace il fatto che siano molto confortevoli sulle labbra e vi faccio vedere la combo con la matita che è guardate bellissima qui invece abbiamo un tratto leggermente più scuro però una volta che poi la andiamo a fondere con il rossetto vedete diventano un tutt'uno la matita fa sì che il rossetto duri più a lungo che non vada oltre i bordi ma non succede con questi rossetti anche se non mettete la matita però questa combo secondo me è una combo perfetta adesso passiamo all'argomento corpo e andando a fare un po' di esperimenti con tutte le creme corpo che ho e i vari profumi sono arrivata alla conclusione di proporvi queste due combo oggi in questo video perché ho intenzione in questi giorni di provarne delle altre di abbinare magari creme corpo diverse a profumi diversi ecco non la combinazione perfetta crema corpo profumo magari dello stesso brand quindi vi propongo questa intanto in questo video allora la crema vellutante al profumo di borotalco di borotalco crema che potete tranquillamente reperire nella grande distribuzione che è una crema leggerissima super super confortevole molto vellutata che lascia la pelle piacevolmente morbida e vellutata e ha un effetto anche molto molto fresco sulla pelle con questa profumazione tipica e caratteristica appunto che è la profumazione del borotalco chi mi segue da tempo sa che io possiedo anche la sua acqua corpo che però so non essere più reperibile quindi è inutile che ve la faccio vedere quando poi dovete andare a cercarla insomma un po' ovunque in internet e poi ho visto anche a prezzi un po' insomma esagerati quando invece si può abbinare qualcosa di molto più reperibile perché questi prodotti si trovano ovunque nei supermercati Tigotà Tulipano Acqua e Sapone insomma dove vi pare e sono i parfumè di Dermomed in questo caso quella al talco e Iris questa profumazione è buonissima appunto che ricorda il talco ma con questa anche nota di Iris e questo profumo è praticamente identico all'Iris dell'erbolario solo che costa un tantino meno perché qui stiamo al di sotto dei 5 euro e l'abbinamento con questa crema è paradisiaco soprattutto la notte prima di andare a dormire questa è una coppiata vincente ma ovviamente indossati anche di giorno se vi piace la nota di talco e di Iris questa combo è perfetta l'ultima combo che vi propongo e ho intenzione di girarne degli altri di questi video perché mi sono divertita tantissimo devo dire a trovare delle combinazioni carine e in questo caso volevo menzionarvi questa combo questa combinazione tra la crema fluida per il corpo Dermomed all'olio di argan e il profumo della Mande Fleur de Sel e Vanille allora questa crema di Dermomed in realtà ha anche la sua versione parfumè di queste però io in casa non ce l'ho e siccome non sto uscendo per acquistare queste cose così magari un po' frivole ma le uniche uscite che fa mio marito sono appunto solo per fare la spesa io sto cercando appunto degli abbinamenti con quello che ho in casa e ho scoperto che questa crema che è una crema strepitosa perché comunque è una crema molto morbida che lascia la pelle bella elastica e profumata una crema che oltre ad avere l'olio di argan contiene anche l'olio di germe di grano la vitamina E e l'olio di mandorle dolci si sposa perfettamente con questo profumo favoloso della Mande che è Fleur de Sel e Vanille questo profumo con note appunto di fior di sale e quindi con questa vaniglia salata balsamica quasi aromatica con note di rosa note di glicine se non sbaglio abbiamo il muschio abbiamo l'ambra è una vaniglia questa davvero molto molto carina perché è tutt'altro che dolce stucchevole tutt'altro che gourmand secondo me è più una vaniglia speziata balsamica davvero l'ideale secondo me da utilizzare in combo con questa crema perché questa crema non fa altro che enfatizzare la nota salata di questo profumo e ovviamente ne aumenta sia l'intensità che la persistenza perché in generale le creme corpo insomma aiutano a a bloccare a fissare un po' meglio il profumo alla pelle e quindi a farli diventare un po' più persistenti e anche un po' più intensi e questa combo è meravigliosa quindi sono molto 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 contenta di avere scoperto che questi due prodotti possono essere utilizzati insieme anche perché a volte magari vorremmo trovare la crema perfetta di un profumo che ci piace tantissimo però in commercio non c'è o magari costa tantissimo quindi anche l'idea di trovare qualcosa di simile che lo ricordi che lo somigli proprio che lo somigli oddio che assomigli come profumazione questo può essere appunto utile per poter trovare due prodotti apparentemente diversi tra loro ma che si combinano perfettamente insieme e poi vi ricordo che stiamo parlando di tutti i prodotti super super low cost questo magari è un profumo che rientra più in una fascia di prezzo media ecco medio-bassa prodotto fantastico di lamande profumi che possiamo reperire nelle erboristerie o parafarmacie o online anche sul sito della mande dunque io spero che questa sia la volta buona che insomma sto video sia venuto quanto meno decente spero comunque che vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia che vi sia stato in qualche modo utile che vi abbia regalato qualche spunto io vi ringrazio come sempre vi mando tanti tanti bacini spero che stiate tutti bene ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao